Entra nel flusso di Radio Raccontiamoci, scarica la app gratuita, c'è un mondo da ascoltare, anche il tuo. Perché Radio Raccontiamoci ha una diffusione molto ampia, mi sono accorto, ci seguiamo a vicenda. Scarica la app gratuita, c'è un mondo da ascoltare, anche il tuo, tuo, tuo. Ma infatti è molto interessante la vostra idea, mi ha entusiasmato quando me ne ha parlato. L'amico Massimo Silvottiri, non vi conoscevo, però io ho detto a Massimo, che è il presidente del piccolo museo della poesia di Piacenza, l'ho detto a Massimo, ma caspita, è un'idea veramente interessante, insomma. Scarica la app gratuita, c'è un mondo da ascoltare, anche il tuo, tuo, tuo. E' un po' questo il senso, l'idea che poi alla fine siamo un po' il frutto di tutti di una storia, e le parole raccontano la nostra storia, anche quella di tutti noi, e c'è un intento di trovare una voce. Sostieni la cultura, basta un clic su Radio Raccontiamoci punto ne, entra nella nostra community. Scarica la app gratuita, c'è un mondo da ascoltare, anche il tuo, tuo, tuo. Entra nella nostra community. Oggi Radio Raccontiamoci APS e anche edizioni digitali e audiolibri. Sempre più la tua voce. La tua voce. Grazie a tutti.